E' Natale 25 vicende, la gente per strada, la piacere, la piacere, la piacere, la piacere, E' airrealismo e l'arrivo, la piacere, la piacere, la piacere, la piacere, la piacere e la piacere, grazie a tutti pesci ben lo che la cassura dov'è incontrato per la cazca Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.